Oggi vi presentiamo una notizia sensazionale riguardante Massimo Giletti, il celebre conduttore televisivo italiano. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. In una recente intervista esclusiva, Massimo Giletti ha rivelato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Il nostro amatissimo conduttore sembra aver trovato una nuova compagna, e c'è persino un accenno alla possibilità di diventare padre. Un'incredibile svolta nella vita di Giletti. Chi è questa misteriosa donna che ha catturato il cuore del nostro conduttore preferito? Dopo un periodo turbolento, Massimo ha cercato rifugio nella sua amata isola vicino alla Sardegna, un luogo speciale dove ha ritrovato l'equilibrio e ha curato le ferite dell'anima. Il 2023 è stato un anno di alti e bassi per Giletti, affrontando dolori come la separazione dalla Rai e il tradimento di una persona a cui teneva molto. Preferiamo concentrarci sull'aspetto umano della vicenda, evitando dettagli giudiziari. Ora che la Rai ha riaperto le porte a Massimo, lui guarda al futuro con speranza. La presenza di questa donna speciale potrebbe portare svolte importanti nella sua vita, come l'imminente paternità. Non possiamo fare altro che attendere con curiosità i prossimi sviluppi di questa coinvolgente storia. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.